Buongiorno a tutti, iniziamo la conferenza stampa pre-partita di Mr. Daniele De Rossi. Vi ricordo, come sempre, che la conferenza sarà tradotta in simultanea nella lingua dei segni. Possiamo iniziare con Sky Sport. Eccoci. Buongiorno. Ciao Daniele. Bentornato innanzitutto nella tua casa. Grazie. C'è certamente un doppio coinvolgimento, quello emotivo, forte, lo immaginiamo, e c'è un coinvolgimento chiaramente sul campo, tecnico, tattico. Inizio a chiederti che tipo di lavoro hai impostato intanto in questi primi giorni, che Roma hai visto, che Roma vorresti. Sorrido, non per la domanda, perché vedo facce alle quali sono affezionato e che non pensavo di trovare. No, quando cambi allenatore vedi sempre i giocatori che i primi allenamenti vanno a 3.000 all'ora, è inevitabile. Succede quando cambi un grande allenatore, quando cambi un allenatore mediocre, è sempre così. Quindi i primi allenamenti ti danno una risposta fino a un certo punto. Bisogna vedere quanto riusciremo a tenere questo tenore, questa intensità a lungo, ma sta una risposta incredibile. Vanno a 2.000, si allenano forti, sono disponibili e sembra che assorbano anche quei due o tre concetti nuovi che vogliamo mettere. Non di più, perché all'inizio, in tre o quattro giorni, puoi rischiare di mettere solo troppa confusione. Però, insomma, sembrano veramente delle spugne e sono contento e li ringrazio di questo. TG Lazio, prego. Sì, grazie. Minister, buongiorno. Isabella Di Chio, TG Lazio. Volevo sapere se ha sentito Totti, se vi siete parlati, che cosa vi siete detti, se non vi siete sentiti, se ha intenzione di chiamarlo. No, no, ci siamo sentiti, lui mi ha mandato il messaggio di in bocca al lupo, mi dimostrava la sua felicità, il suo stupore, che poi inizialmente era anche un po' il mio. Niente, questi giorni abbiamo parlato un paio di volte, ci siamo promessi di vederci, adesso lui va in Cina, se non sbaglio, a fare una roba. Ci vedremo a più presto, passeremo un po' di tempo insieme, che poi è una cosa che a noi fa sempre piacere, al di là della Roma, al di là di chi l'allena, al di là di che lavoro facciamo. Grazie, Minister. Prego, grazie a lei. Corriere dello Sport. Buongiorno, Daniele, quando si subentra vuol dire che c'è un problema, quindi io le vorrei chiedere qual è il problema principale che crede di dover risolvere nella Roma e in prospettiva, avendo firmato un contratto fino a giugno, sarebbe contento alla fine della stagione se? Sarebbe contento se a fine stagione noi fossimo fra le prime quattro della classifica. Penso che sia un lavoro da fare, un obiettivo da puntare, non facile da raggiungere ma assolutamente possibile. Sì, quando cambio allenatore i problemi ci sono sempre, ci sono passato io un anno fa, io pensavo che non ci fossero tutti quei problemi, la società sì, penso che possa dire la stessa cosa al mister, la società idem adesso, succede così, è un cambio, non è una cosa così rara nel mondo del calcio, ci sono dei problemi che però io non devo andare ad analizzare troppo, cioè io devo cercare di partire da zero, dallo zero a zero come partono le partite, devo vedere quali sono le cose che secondo me non funzionano in questi giorni e ti assicuro che in tre, quattro giorni non fa in tempo a vedere e analizzare tutto. Sono fortunato perché vuoi o non vuoi, per motivi di tifo io le partite le ho viste tutte, mentre qualsiasi altra squadra sarei dovuto ripartire da zero, a guardare i filmati, i video, invece io un pochino in mente, anche se magari a volte con l'occhio del tifoso le guardo in maniera più distratta, però insomma è la squadra che conosco di più di tutti al mondo, quindi perché l'ho vista tutte le volte per motivi di tifo, quindi magari abbiamo accorciato un pochino il periodo di studio. Gazzetta dello Sport, prego. Ciao Daniele, sono bentornato anche da parte mia, ti volevo chiedere della Champions, ma mi sembra che tu ci abbia già risposto. Allora ti dico, ricordo una tua intervista televisiva, mi sembrava un paio di anni fa, in cui dicevi che chiaramente il tuo sogno era quello di tornare a allenare la Roma, ma anche avresti dovuto fare un percorso prima. Allora, questo è il momento giusto per tornare a casa, per tornare alla Roma? Era il momento giusto per rifiutare la Roma, secondo te? No, secondo me no. Allora, la domanda te la faccio io in maniera scherzosa, ma non si rifiuta la Roma, no? È un po' quello che è successo a Andrea Pirlo qualche anno fa, quando è andato a Juve, lui era partito dalla squadra Under-23, poi si è trovato in questa situazione, ci sono uomini che rifiutano, uomini che si buttano dentro. Ovviamente non è solo voler tornare a mettersi la felpa, non è solo un discorso di pezzo o di nostalgia del passato, uno fa anche un'analisi veloce di quelli che sono i valori di questa squadra e l'unica ragione per cui io avrei detto no è se avessi pensato che la squadra era una squadra mediocre o scarsa, cioè non vado a fare brutte figure se sono sicuro di farne. Io penso che la squadra sia una squadra forte e quindi penso che il lavoro che noi dobbiamo improntare ci potrà portare anche a fare bella figura e aiutare me come sviluppo di carriera, dove lo vedremo fra qualche mese. Grazie. La stampa. Le volevo chiedere, in un'intervista anni fa lei ha detto non mi piace la parola del mio calcio, il mio calcio non esiste, io non devo inventare nulla. Per cosa le piacerebbe che fosse ricordato il calcio proposto dalla Roma di Daniele De Rossi? No, il mio calcio è una roba che mi fa venire i brividi, ma a volte ho sentito dire questa cosa anche ad allenatori che io stimo, a gente a cui voglio bene, per proprio un'espressione sbagliata, perché il calcio non è mio, non penso di essere, sai, se Guardiola dicesse il mio calcio allora potremmo stare lì a ascoltare e chiedergli di spiegarcelo un po', perché c'è quel soffio di genialità che ci ha portato a vedere qualcosa di nuovo, che ha cambiato qualcosa, lo stesso vale per De Zerbi, lo stesso vale per Simeone o Antonio Conte che hanno spostato qualcosa nel mondo del calcio. Io non penso di essere al loro livello, non so se ho, come posso dire, quel marchio di fabbrica, però penso che gli allenatori bravi li riconosci anche da come giocano le squadre, cioè sono degli allenatori bravi che non hanno inventato niente, ma dici, ad occhi chiusi, quella è una squadra di questo allenatore, quella è una squadra di quest'altro allenatore. Quindi io penso che se la nostra squadra, a fine di questo percorso, ma anche abbastanza velocemente, sarà riconoscibile e soprattutto fra di loro sapranno quello che devono fare in campo in maniera organizzata, in maniera fruttifera, io penso che sarei contento di questo. Venire ricordato come uno che fa giocare le squadre bene e che le fa vincere, basta e mi avanza. Grazie. Il Romanista, prego. Eccoci, ciao mister. Volevo sapere, intanto, non so se lo sai, ma da alcune indiscrezioni che stanno arrivando, c'è il rischio che ti ritrovi in Murigno in panchina contro l'Ashabab la prossima settimana perché pare che stia trattando con quella società. Volevo sapere se ti era arrivata qualche notizia. Ma a parte questo, mi incuriosiva un po' perché abbiamo saputo che non ci sono condizioni nel tuo contratto dopo la scadenza di giugno 2024, però c'era un bonus legato all'eventuale quarto posto, o comunque il raggiungimento di un piazzamento per la Champions. Volevo sapere se si è parlato anche eventualmente di Europa League come traguardo e comunque, anche se non ci sono condizioni contrattuali, che cosa ti hanno detto a proposito di un'eventuale tua permanenza anche per il futuro? Grazie. No, no, prego. No, i presidenti, Dan, Ryan, Fritkin, sono stati chiarissimi sulla durata del contratto e sul tenore della mia permanenza qui. Ovviamente io ho detto, ok, va benissimo, mettetevi la cifra, voglio un bonus per la qualificazione in Champions, io non ho firmato in bianco perché effettivamente il contratto era scritto, ma io ho detto che avrei firmato la cifra che avrebbero messo loro, penso che è un gesto dovuto per quello che io sono stato qui, ovviamente non farò tutta la mia carriera di allenatore così, e anche per l'opportunità grande che io sto ricevendo. Mi hai detto... No, non ci sono condizioni, non ci sono rinnovi automatici, non ci sta niente, è un contratto di sei mesi, io gli ho detto che a me andava bene così, che volevo giocarmi le mie carte e l'unica cosa che gli ho chiesto è di trattarmi da allenatore, di non trattarmi da bandiera, da ex giocatore, da leggenda, dovevo fare il giro di campo con Lupoli, Romolo, con i ragazzini, ma loro su questo erano stra d'accordo, erano stra sicuri che non avrebbero mai trovato incomprensioni da questo punto di vista. Poi per il resto sanno, perché gliel'ho detto, ma sanno che io dal primo secondo in cui l'ho sentito, in cui è arrivato questo messaggio che veramente non mi aspettavo, io me la giocherò fino alla morte per rimanerci qui, questo è sottinteso e loro penso siano soddisfatti di questo, cioè un allenatore che prova a mantenersi questo posto con un gioco pulito, senza ricorrere a quello che sono stato, ma cercando di moritarmi sul campo la riconferma, perché sarebbe un sogno per me. Corriere della Sera. Cinque e sei ne mancano. Vai, vai. Le due non le più. Buongiorno. Le due non le più. Volevo chiederle, visto che poi c'è tanta storia dietro, ma poi c'è il Verona domani, se si è già fatto un'idea su come difendere, se ha quattro o se ha tre, e se c'è un'idea comunque di base, che le piace di più, o se di volta in volta potremmo vedere anche schieramenti diversi in difesa. Grazie. Io nasco, inizio a veramente innamorarmi di questo lavoro con Spalletti e successivamente il colpo di fulmine finale, la botta finale, me l'ha data Luis Enrique. Quindi per me questo tipo di allenatori, che quindi portano tanti giocatori in fase offensiva e che automaticamente difendono a quattro, sono stati la base del mio innamoramento, della mia folgorazione e delle mie stagioni migliori forse. Però questa è una squadra che da tanti anni gioca a tre, è stata costruita per giocare a tre, quindi noi cerchiamo di prenderci fino all'ultimo minuto per decidere, abbiamo provato entrambe le cose, penso che si possa anche giocare, difendere in una maniera e magari di costruire in un'altra, con delle rotazioni che magari all'inizio potrebbero essere un po' farraginose, perché non sono automatismi ben studiati, ma che poi dopo entrerebbero nella testa dei giocatori così esperti in poco tempo. Quindi vediamo di decidere e non tolgo tra le opportunità quella di magari cambiare in corso di partita o magari di cambiare in corso di stagione, questa è una squadra che magari qualche partita la affronterà a tre, qualche partita la affronterà a quattro, anche in base alla strategia di gara e a quello che sarà l'avversario. Leggo. Buongiorno e bentornato. Io non ci vorrei leggere troppo intorno. In questi giorni fuori da Trigoria c'è un ambiente particolare, c'è un clima anche di malumore da gran parte della tifoseria, verso i giocatori, c'è uno striscione contro la dirigenza, c'è anche chi dice che lei è stato preso come effetto calmante, verso questo tipo di reazione. Ecco, voglio sapere se ha questa impressione e se questo può essere destabilizzante o può essere invece uno stimolo magari anche in più per lei, per la squadra e per la Roma. No, non ho bisogno di stimolo in più, non mi destabilizza per niente. Sono stupido, la scelta calmante, un effetto calmante è un modo un po' brutto, un po' moscio di definirla la scelta. Penso che un dirigente quando prende una decisione su chi deve rimpiazzare, un allenatore così tanto importante e così tanto amato, debba prendere in considerazione tanti fattori. Io non sto dicendo qui che io sono la scelta giusta, assolutamente, però dico che, chiudo gli occhi, provo a pensare ad altri allenatori disponibili sulla piazza messi qui oggi, magari la reazione della gente potrebbe essere ancora più devastante a breve termine nei confronti della squadra. Uno. In più, diciamo che, penso che i tifosi siano una parte importante, soprattutto negli ultimi anni, i pienoni, questo affetto gigante che hanno dato alla squadra, penso che abbiano portato anche dei punti. Penso che siano capaci, nessuno è più capace ai tifosi da Roma di saper amare due persone insieme, nessuno toglie il bene che hanno voluto e che vogliono a Mourinho, però penso che non sarà difficile per loro voler bene anche a me e quindi magari rimanere su quella scia d'amore, su quella scia di calore e di casino che c'era dentro lo stadio nell'ultima volta in cui sono venuto. È ovvio poi che non mi hanno scelto perché sono rimasti folgorati dai risultati o dai prestazioni della SPAL, cioè io non sono stupido. E' una scelta che, però calmante e brutta, secondo me è una scelta ponderata anche in base a fattori ambientali, a fattori di leadership, a fattori di mille cose. Sarà giusta, lo scopriremo fra qualche tempo, io ne ho approfittato, molto semplicemente e penso che potrebbe essere una grandissima occasione per me per diventare l'allenatore che voglio diventare. Il giornale? Buongiorno, ben arrivato. Volevo chiederle, lei in un'intervista in piena pandemia disse un giorno mi piacerebbe allenare la Roma, magari succederà, è successo, si aspettava che fosse proprio così il giorno e soprattutto, visto che lei ha detto vorrei essere trattato con un allenatore, appena entrato nello spogliatoio, si è sentito l'allenatore della Roma. Grazie. Prego. Beh, molto simile alla domanda che mi hanno fatto prima. No, non si aspetta che mandino via l'allenatore, non la sogna così, mandino via l'allenatore più titolato della storia e che prendano te. però, insomma, ero consapevole, non mi hanno forzato, non mi hanno puntato una pistola alla tempia per accettare. me l'aspettavo, me l'aspettavo un processo più graduale, ecco. Però è pieno il mondo del calcio, di episodi, di esempi, di allenatori che sono entrati come traghettatori ad interim, magari per un paio di partite, magari in attesa che firmasse un altro allenatore. Poi sono rimasti, ultimo in ordine di tempo, probabilmente Raffaele Valladino, che penso che fosse stato scelto per fare l'allenatore a lungo termine e si sta dimostrando sicuramente dai due o tre più bravi allenatori che ci sono in Italia, quindi non è una scelta, non è una cosa così rara, insomma, quello che mi è successo, però diciamo che la immaginavo diversa. E l'altra domanda, sì, io mi sento allenatore della Roma, più in campo che negli spogliatoi, perché ovviamente non si toglie quel rapporto di confidenza che hai con gran parte dello spogliatoio e non è mia intenzione neanche toglierlo. Io penso che ci si possa rispettare, anche sapendo di essere amici, senza far finta di... Io non devo fingere qui, io non devo far finta che non ci sono mai stato qui dentro o che non voglio bene a Pellegrini, Cristante, eccetera, eccetera. Non ho mai finto qua dentro, non ho mai finto con i miei compagni, non ho mai finto con i tifosi, non devo fingere. Una persona mi ha consigliato di non venire con la mia macchina perché, sai, è troppo... Io non devo far finta neanche di essere povero, io non devo fingere, io devo fare allenatore. Una volta che usciamo allo spogliatoio e entriamo in campo, io lì mi sono sentito allenatore. Perché loro mi guardano, mi ascoltano, mi seguono e la sensazione dei primi giorni è che anche gradiscano quello che sentono. Poi dopo il fatto che loro gradiscano non è abbastanza per essere un bravo allenatore, ma il fatto che queste idee, quello che facciamo, ci porterà a qualche punto, magari sì. La Repubblica, prego. Buongiorno, mister. Buongiorno. Lei ha detto qualche tempo fa che Roma non avrebbe dovuto far stufare Murigno. Quindi le faccio due domande. Roma ha fatto stufare Murigno e se lo ha sentito, se vi siete telefonati. Sì, ho detto prima, io gli ho mandato un messaggio, non di circostanza, lo sentivo di dovergli mandare un messaggio, lui è stato uno dei primi a mandarmi un messaggio quando ho firmato per la SPAL, quindi penso che era un gesto dovuto e giusto. Non lo so, se sei stufato dovresti chiedere a lui, non lo so, non mi permetto di dirlo, con tutto rispetto non mi interessa neanche troppo, io mi devo focalizzare su quello che ho davanti, su quello che posso cambiare, su quello che posso migliorare, su quello che posso fare, su quello che devo fare e ti assicuro che in questi quattro giorni sono stato costretto come è normale che sia a parlare di tanto, oltre che di calcio, la divisa, il contratto e quello e quell'altro, quindi io non vedo l'ora che questa cosa si normalizzi e io possa iniziare a passare le giornate qui a guardare, a studiare, a pensare al calcio. Il tempo. Buongiorno, lei ha detto che la Roma è una squadra forte, ecco visto che l'ha seguita come ci ha detto in precedenza, si è fatta un'idea di quali potessero essere i problemi principali, se magari una mancanza di motivazioni dopo comunque due anni e mezzo alla guida di un tecnico, se i problemi tattici e se qualcuno soprattutto l'ha stupita di più in questi quattro giorni che sono ovviamente pochi però magari un'idea se l'è fatta. Qualche problema lo riscontravamo anche guardando la partita, alcune partite, non penso che la Roma giocasse male come veniva detto, penso che giocava delle partite molto male e delle partite molto bene, era questo sali e scendi che magari ha causato un po' questo distacco che c'è in classifica, ma la Roma con l'Atalanta, io l'ho vista, ha giocato una grande partita, con il Napoli nello stadio ha giocato una grande partita, quindi la Roma non ha problemi clamorosi di gioco, non è stata allenata male, ha avuto delle alternanze dal punto di vista del rendimento in campo e quindi le idee, motivi, qualche domanda ce la stiamo facendo ovviamente, ma ovviamente la vengo a dire qui in conferenza stampa perché sarebbe pure rispettoso, no? E poi mi ha chiesto se l'ha stupito qualcuno in particolare per atteggiamento magari? Ma io ero consapevole che questa era una squadra forte, i giocatori erano forti, poi dal vivo quando vedi questi giocatori rimani impressionato, io sono stato abituato a giocare con giocatori forti, però quando poi li rivedi dopo tanto tempo, li rivedi in allenamento e ti riavvicini a questo livello di calcio e vedi in allenamento con la palla toccata da Di Bala, da Lukaku, da Pellegrini, da questi giocatori qui, io penso che rimani colpito. Stupito, io ammetto che non conoscevo bene Pisilli, è un giocatore tanto forte, non pensavo fosse così, con tutta questa qualità, è un giovane, un ragazzo, veramente un bambino ancora, però mi ha impressionato perché ammetto di avere la colpa di non conoscerlo bene e vederlo dal vivo mi ha impressionato. Chiudiamo con ASRoma.com, grazie. L'ultima. Buongiorno mister, cosa c'è da non sottovalutare nella sfida di domani contro il Verona? Mille cose, il Verona innanzitutto, perché è una squadra solida, allenato all'allenatore che io stimo tanto come allenatore e come uomo, che ha mantenuto la barra dritta della squadra anche in un momento in cui, penso, lì a Verona si parlasse di alto, di mercato, di cessioni, di casini societari, quindi la sua eleganza e il suo riuscire a portare a casa una vittoria importante come quella contro l'Empoli, la ammiro molto. È una squadra solida, proprio strutturalmente solida, giocatori di grande fisicità e con un gioco abbastanza definito e a volte anche riconoscibile, ma che sanno fare bene. E poi anche, insomma, l'emozione dell'esordio non ci deve fare brutti scherzi a me, ma sono abbastanza tranquillo, ma anche ai ragazzi, perché comunque è un cambio, ci sarà un po' di, spero di no, ma ci potrebbe essere un po' di malumore, quindi dobbiamo essere tutti veramente molto, molto, molto caldi. Io in panchina, i ragazzi in campo e la gente fuori. Grazie mister, grazie a tutti voi. Grazie.